Dovettero soccombere. Il generale statunitense George Caster, due suoi fratelli e tutti gli uomini del Settimo Cavalleria appartenenti alla colonna da lui cappeggiata, furono massacrati il 25 giugno 1876 nella battaglia dei Little Begone, combattuta contro una coalizione di tribù native. Perché gli indiani, che quando si coalizzavano riuscivano a tanto, dovettero soccombere agli invasori? Commento Perché gli indiani erano la razza che doveva essere sostituita dalla razza successiva e quello che succederà alla nostra razza sotto la spinta dell'Islam. Grazie 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 Grazie